L'opera ha cambiato la mia vita perché studiandola è possibile conoscere la società, conoscere l'uomo, capire meglio le relazioni umane. La mia prima opera è stata Don Pasquale, ma non posso dire di essere affezionato ad un particolare stile, ad un particolare mondo. L'opera è bella tutta, ciascuna racconta qualcosa, vi invito ad appassionarvi, a sentirla. Dunque, buon Opera Day a tutti!